Cazzo, la torcia si spegne! Trovia che non riuscire. Vinciti! Dammi una mano! Di qua! Vieni! Sali! Forza! Dobbiamo andare! Vai! Oh Cristo, scendono dal soffitto! Forza, corri! Cristo, questi casi sono veloci! Andiamo lì! Qua su! Preso! Salta! Toglimelo! Toglilo! Ok, sei pulito. Io invece... Sì, votati! Sei a posto. Stai bene? Sì, credo di sì. Ok, là dentro non ci torniamo. Mi sembra una buona idea. Beh, di qua non si va. Andiamo dove vuoi. Solo promettimi che non ci saranno ragni. Ok, dobbiamo trovare una via d'uscita. Al diavolo, niente da fare. Perfetto. Prova a cercare un passaggio. Stai attento. Ok. Oh no! Attento, niente! Lo so, lo so! Quello funzionerà! Come immaginavo. Troviamo il modo di scendere. Ehi, aspetta! Shhh! Anichel! Fino all'ultima goccia! Che stanno facendo? Bruciate questo posto! Oh no! Sally, dobbiamo andarcene. Oh no! Leave me now! Oh no! Oh! Oh, merda! Non ci voleva! Sono in trappola! Fallo fuori, Sally! Accidenti! Merda! Sì! Clear! Clear! Ammatti quella cazzo di trave! Resisti, Sally! Dai, presto! Resisti, arrivo! Merda! Davide! Dai, entra! Problemi di vertigini! Andiamo! Merda! Ti copro io! Presto! Sei morto, bello! Sei morto, bello! Sei morto, bello! Per più! Niente da fare... Entrappola! Ci deve pure essere un'uscita! Di qua! Forza! Dobbiamo uscire da qui. Ultimate. Sì, sto bene. Ci vediamo dall'altra parte. Perfetto. Arrivo subito. Occhio a terra! Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, no! Oh mio Dio, no! Ok, qua giù. Siamo quasi fuori. Non, 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 non! In arrivo! Oh mio Dio. Oh mio Dio. Grazie a tutti. Aspetta! Quassù! Ecco la porta! Oh no, no, no! Oh cavolo! Tutto bene! Vai! Vai! Merda! Merda! Sully, sono bloccato! Aiutami! Sono loro! Dai giù! Nate! Sully, sono bloccato! Aiutami! Oh merda! Sono loro! Dai giù! Diablo! Benissimo! Muoviamoci! Atento! Aspetto! Sulla lì! Un aiutino! Dammi la mano. Grazie. Forza, qua su! Dai, Nate, non fermarti! Ah! 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 Sali! Sali, resisti! Sto scivolando! Bene, ti copro! Ti copro, vai! Vai! Grazie. Continua a salire! Ah! Ah! Barzanet! Ah! 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 Ci vedo! Di qua! Sono loro! Questo posto sta per crollare! Ci vedo! L'assaut! L'assaut! C'è una scala! Forza! Forza, sali! Resisti! Via! La stramaledetta torre, crolla! Corri! 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 Corri, sali! Ander! Corri! Corri! Oh, cavolo. Ci è mancato poco, eh? Stai bene? Oh, sì. Meglio di sempre. Sì. Dammi un secondo. Tendi a scordarti che ho 25 anni più di te. Pianta, la sei più forte di un toro. Comunque, che fretta c'è. Ci credono là dentro. Per un pelo, eh? Lo ammetto. Sto perdendo il filo. Puoi ricordarmi perché lo facciamo? No, 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 no. Risparmiami un'altra storia del tipo sono troppo vecchio per queste cose. Nate, questi tizi fanno sul serio. Sì, e allora? Che c'è? Vorresti arrenderti ora? Nessuno ha mai parlato di arrendersi. Allora smetti di fare come se stessi morendo, ok? Senti, ragazzo. T'ho coperto le spalle per vent'anni. Non me ne vado da nessuna parte. È ovvio. Voglio solo assicurarmi che lo stiamo facendo per i giusti motivi. Hai fatto una questione di orgoglio di tutto questo. Sei più avventato. Ti ho addestrato meglio di così. Finirai per farti ammazzare in merda. Diavolo. Ci farai ammazzare tutti. Oh no. Cosa? Cutter e Clou. Sally, se seguivano noi... Avranno seguito anche loro. Vanno avvertiti. Già. E andiamo subito in Siria. Spero tu sappia dove trovare l'auto, perché io sono completamente ribaltato. Diavolo. Sono ancora irraggiungibili. Qualcosa deve essere andato storto. Tra quanto riapre questo posto? Qualche ora prima che arrivino le committive di turisti. Meglio muoversi. La catena è rotta. Ok. Ora sappiamo di non essere i primi. Sì. Finché Carlo e Bentalbo ci credono morti, abbiamo il fattore sorpresa. Lo sprechiamo. Esatto. Ok. Ci intrufoliamo. Scopriamo dove tengono Clou e Cutter. Sì, tengono. Viva l'ottimismo. Sto solo dicendo che non mi sembrano i tipi che prendono ostaggi. Ora proviamo con la migliore delle ipotesi, ok? Liberiamo Cutter e Clou e usciamo tutti e quattro di soppiato. Sì. Come no. Usciamo di soppiato. Potremmo farcela. Sì, sì. Da qui non si passa. È chiusa. Sì. Ci si sta messa. Sì. Oh, 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 oh. Da qui non si passa. È chiuso. Oh. Su di qua. Vai e controlla. Io aspetto qui. Nasconditi. Ok, sali. Tutto ok. Sali. Ok, sali. Ok, sali. Ok, sali. Ok, sali. Ehi, aiutami con la porta. Ehi, ai, ai. Non sappiamo che c'è dall'altra parte. Sì. Ben detto. Mi arrampico e do un'occhiata. Ti dico se è sicuro. D'accordo. Tutto ok? Sì. Per un pelo. Ehi, aiutami. No, merda. Ti già. Ecco, perfetto. Ehi, aiutami. Ehi, aiutami. Ghella. Arriba! Attenti! No, merda! Dì già! Ecco, perfetto. Copia! È finito! No, merda! Dì già! Ah, ecco, perfetto. Fermatelo! No, 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 no! No, 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 no! Ah! 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 Braccatelo! Nonononono! 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 Nononono! 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 Sì. 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 Forza, è libero. Perché ci hai messo tanto? È solito cosa. Forza, dammi una mano. Dai, di qua. Dobbiamo sbrigarci. Sali, di qua. Stai indietro. 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 Aspetta, aspetta. Per questo, per questo, per questo. Pizzo, state giù. Ah, che c'è ora? Per arrivare alla torre dobbiamo affrontarli. Ottimo, non dovevamo entrare e uscire senza farci beccare. Che cosa? Non possiamo mollare ora. Non quando manca così poco. Capiremo com'è a girarli. Capiremo com'è. Capiremo com'è. Capiremo com'è. Kazan! Sì, 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 sì. Granata! 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 Un'entrata alla base della torre. Beh, saliamo fino in cima e diamo un'occhiata. Bene! Garcello, perfetto. Charlie, dammi una mano. Ci siete? Sì, chiaro. Ce l'ho. Ok, giù. Grazie a tutti.